La fiction Rosie Abate sta appassionando milioni di telespettatori, ma sabato scorso Maria De Filippi ha rivelato un retroscena sulla serie.Durante Tu si cui vales, il giudice si è rivolta a Belen Rodriguez per domandarle se sta seguendo la serie Belen, hai guardato Rosie Abate? E quando la showgirl argentina ha ammesso di non averla ancora vista, la De Filippi si lascia scappare uno spoiler clamoroso sulla serie. Ecco, fallo perché nella prossima puntata lei troverà suo figlio, dice Maria.immediatamente, tutti i giudici e conduttori sono rimasti senza parole adesso finiremo su tutti i blog e siti. Maria hai svelato il finale, hai spoilerato tutto. Ma dai! Così Maria De Filippi prova a recuperare e aggiunge Mano, io penso che lo ritroverà. Beh, è la puntata più importante, si capisce, dai! Anche dalla pubblicità, io penso è.